Grazie a tutti. Con riformulazione va bene? Sì. Rocchi con riformulazione va bene? Sì. Carocci favorevole? Ok. Cimbro è stato ritirato. Matarrelli favorevole. Baldassare favorevole. Segoni va bene la riformulazione? Sì. Turco va bene la riformulazione? Sì. Artini con riformulazione va bene? Sì. Becchi se è favorevole. Brignone è contrario. Vuole intervenire? Prego, onorevole Brignone. Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno chiedevo semplicemente per il fatto che questo provvedimento prevede una corrisponsione di un contributo per le paritarie in base alle alunni con disabilità frequentanti che un analogo contributo potesse essere previsto anche per le scuole statali. Prendo atto del parere contrario del Governo ma chiedo all'Aula di rimetterlo al voto. Grazie. Siamo in votazione all'ordine del giorno 25. Brignone. Parere contrario? Aperta la votazione. Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo. Allora, Marzano è favorevole. Vezzali, parere contrario. Prego, onorevole Vezzali. Colleghi, calma. Allora, Presidente, il parere contrario del Governo...